Tornati su Ghost of Tsushima! Oh yeah! Pronti a far spadate con tutti i palenghi che spunteranno? Loro di bastardi! Allora, vediamo un po' dove eravamo rimasti. Dovamo fare questa? Eh sì! Allora, vediamo un po' dove eravamo rimasti. Ok, andiamo. Ok, andiamo. No cerco. Grazie a tutti. 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 Oh, io intervengo. Che devo fare? Devo stare più come uno scemo. Maledetto arciere di merda. Così impari? No, quelle rosse non si possono parare. Te lo devo ricordare. Quando sono rosse vanno schivate. Chi è? E se no, va bene. E questo, così. No, va bene. E questo, va bene. E questo, va bene. E questo, va bene. E questo, va bene. No, va bene. No, va bene. No, va bene. E questo, va bene. E' un'alternativo di schivare i colpi. Ehi, va bene. Cucu. 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 Eccomi qua. Maledetto. Cucu. 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 Sì, sì, sì. Finiti? Oh, ce n'è ancora qualcuno Mercere? No, sono finiti, ok C'è il computer? Ah, sì Mission complete Next Allora, andare lì Vediamo Facciamo quella e poi risaliamo Sì, ci sta Ok, allora la prossima è questa Hoci, guarda Aspettare Allora, amassare Questa è la fine Questa è la fine Questa è la fine L'implice Grazie. E' un po' incontro. Grazie a tutti. 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 Sto luogo sarebbe la tua tomba. Un modo originale di combattere. Tutti in cima a morire come degli stronzi. Ok? 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 Ok. Ok? Ok. 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 Sono finiti? Allora, usa L2E per lanciare un esplosivo che danneggia e fa percolare il nemico. Usa L2E per lanciare un campanellino che attira l'attenzione del nemico. Allora, questa è un gancho. Grazie a tutti. Ok, via. Quindi è finito a sto punto. Sì. Ah, ce n'è un altro. Andiamo qua. Ah, praticamente non aveva un posto. Non aveva un posto. Non aveva un posto. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, è stato un fenomeno stavolta, eh? Eh, stavolta è stato bravo, dai. Facciamoci quest'altro bagnetto. Un bagnetto dopo l'altro. A che gli leghiamo il pensiero? Il mio codice è sgombrare la mente. La facciamo sgombrare la mente. E la vita aumenta. Andiamo qua, va. Ritorniamo. Andiamo. Andiamo. Grazie per la visione! 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 È finita? Ho un posto liberato? Vediamo un po' di risorse interessanti da raccogliere! Grazie per la visione! Grazie per la visione! E' abbastanza raro che io mi sono chiuso nei collezionabili! Forse l'ho fatto su GTA 3 e nel primo Kingdom Hearts! Ah beh! Anche in Assassin's Creed 2! Per il resto! Per il resto! Ok! Andiamo al prossimo! Stato qui! L'ho anche degli orzetti! Stato qui! Non si scherzi questi qui! Non si scherzi! Questa casa... Si può entrare... Da tutto buio! No! Continuiamo per la mia strada! Ah! Ah! Da la mia orzetti! sulletto! Andiamo ora... E ora essas asELLix! Questa è molto bello! Sono pezzi! Governac Alighest Governac Camara� Arr Tack Alighest Per Ten- megare dall'erro alto Un Cattall Per Tenere All Art vita in Aspel Restorare accarezziamo, accarezziamo sempre le volpe magari mi danno qualcosa ok, siamo tornati sulla mia strada ok, siamo tornati perché mi dice per forza rompere i coglioni, non morire vai vai, lanciamene un'altra, dai ecco, contento non ti coglioni quanto manca? ah, scusate non ti coglioni ma non ti coglioni non ti coglioni Grazie a tutti. 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 Devo tornare lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Che delusione. Che delusione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo un po' questa fantastica armatura leggendaria. Grazie a tutti. 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 Trovati. E adesso... Grazie a tutti. 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 eh lo so però per non perdere il senso eh ma così non è grosso non devo perdermi capito devo restare in questa direzione questa, questa è la direzione qui c'è il lato che è il fiume e questo è il punto qua Ci siamo, ci siamo Eh dai, sono più facile del previsto Mi credevo chissà che roba complicata Invece Beh, in effetti Ma poi sono morti, quindi C'è qualcosa di pericoloso qui Hai qualche guardiano? Forse O lui stesso Ma che è il suo fantasma? Con suo discendente Grazie a tutti 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 Immaginavo c'era qualche guardiano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti spaz Oh dai! Fa un culo Ma quindi può attaccarmi anche se mi paro? Ah vabbè le mosse rosse Aia quella postura non mi piace per niente Questa è la cosa che ci ha dato Ma non è così Ma non è perfetto Noi, ma non è perfetto Ma non è perfetto L'impezzato Ma non è perfetto Ma non è perfetto Non è perfetto Ma non è perfetto Allora, fermo signore, adesso mi riconosci bruttastroso. 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 Sì, 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 sì. È sempre lui… si diverte a raccontare queste minchiate. Grazie a tutti. 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 No, cazzo. Devo buttarmi subito in difesa del bardo. Grazie a tutti. No, cazzo. Ma questo bardo non potrebbe scappare, no? Devo agire stesso. No, cazzo. 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 Ah 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 Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi lo sta attaccando adesso? Dai buono. Finiti? No, non arrivano altri, ovviamente. Ti pare? No, non, non, non. Non andare. Corri, 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 corri! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E ora, no, no, no. Posso farlo? Ecco, forse. Quindi lì non si passa. Quanto pare che lì non si passa. Torniamo. Non sono in combattimento. Perché mi hanno visto? Dai ragazzi, non sono in combattimento ancora. Questo combattimento. Solo via. Allora, un po' di nuovo. Oof! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , , a tutti. a tutti. , 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 , a tutti. 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 , , a tutti. , a tutti. , a tutti. , a tutti.